Una buona serata terza ed ultima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca giudiziaria. Dopo il cambio di avvocato deciso ieri è stata ascoltata questa mattina Daniela Lorusso, la donna accusata insieme al figlio del tentato omicidio del marito di lei e del patrigno del figlio davanti al GIP ha però respinto tutte le accuse e il servizio di Francesca Romana Testi. Non ci si aspettava che parlasse Daniela Lorusso accusata del tentato omicidio del marito Antonio Di Tommaso con un piano definito diabolico che prevedeva il discioglimento di un anticoagulante ogni giorno. Conclusosi poi con un'aggressione fisica pianificata al costo di 1300 euro per causargli la morte senza destare sospetti. A seguito dell'udienza di ieri, conclusasi prematuramente dopo le dichiarazioni del suo complice, il figlio Michele Gruosso, che ha scaricato su di lei le responsabilità, dopo aver nominato un nuovo avvocato è stata ascoltata per la prima volta questa mattina. Si è presentata in aula con una memoria difensiva e poi invece ha detto di voler parlare. Ha iniziato il suo racconto elencando tutti i ricoveri del marito, tutti quelli accusati dal gennaio 2016, quando, secondo gli inquirenti, sarebbe iniziato il piano di avvelenamento. Due i farmaci usati, come emerso dalle intercettazioni una compressa di anticoagulante e una di benzo di azepine. La signora ha spiegato tutto quello che le è stato chiesto. Cosa le è stato chiesto? Le è stato chiesto come sono andate le cose, le è stato chiesto un po' tutte e la signora ha detto di non aver partecipato a nessuna azione nei confronti del marito. Quindi si protesta innocente la signora? Sì, la signora si protesta innocente. E le intercettazioni? Questo attiene al fatto, io non le ho lette le intercettazioni, in quanto sono stato nominato di recente, quindi non le ho lette, quindi non so dirvi niente, ma se le intercettazioni dovessero avere un significato accusatorio tale da non poterne venire fuori, potrebbe darsi che l'azione possa essere stata posta in essere. Però la signora, dalla persona a carico delle quali sono stati fatti questi... Le intercettazioni sono due, c'è un concorso intentato rigido. Sono due perché sono due imputati, però bisogna vedere se ci potrebbe essere anche un terzo, un quarto, chiediamo se sappiamo noi, perché il Cuvadine non potrebbe averlo propinato qualcun altro, tutto è possibile. Ancora cronaca, ha coltellato il nipote ventottenne che, soccorso da un'ambulanza del 118, ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Avezzano. L'episodio è accaduto la scorsa notte nella frazione di Poggio Filippo, proprio del centro aquilano. L'autore del ferimento, un 54enne con precedenti di polizia, residente nello stesso paese, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e minacce aggravate. A rintracciarlo sono stati i carabinieri della stazione di Tagliacozzo e della liquida radiomobile della compagnia, sempre del centro aquilano. Le pattuglie sono intervenute dopo una chiamata del 112 in cui era stata segnalata una persona ferita. L'accoltellamento sarebbe stato l'epilogo di una lite tra i due scaturita da dissidi familiari. L'arrestato, che si era reso protagonista già di un fatto simile a giugno del 2015, quando finì in manette per aver ferito con un coltello una minorenne della zona, si trova ora nel carcere di Avezzano. Ancora un furto con spaccata invece all'Aquila in pieno centro storico. A farne le spese questa volta il ristorante Pizzeria, il Vicoletto in Via del Gatto, vicino alla fontana luminosa. Polemiche per la mancanza di controlli e di ronde notturne da parte delle forze dell'ordine. Il servizio di Daniela Rosone. I commercianti del centro chiedono più sicurezza. L'ennesimo furto perpetrato ai danni di un'attività commerciale del centro storico aquilano rende quest'ultimo sempre più oggetto di attenzioni. Tant'è che l'assessore alle opere pubbliche del comune dell'Aquila, Maurizio Capri, ha annunciato di recente l'installazione di telecamere a partire da settembre in centro in alcune zone della periferia. Questa volta essere preso di mira il ristorante Pizzeria, il Vicoletto, nei pressi della fontana luminosa. Un furto con spaccata e danni ingenti anche all'interno. Presi due tablet, tutto l'incasso della giornata precedente e anche bottiglie di vino di valore. I commercianti chiedono più sicurezza, soprattutto chi ha fatto tantissimi sacrifici per riaprire la sua attività nel centro storico. Niente, praticamente siamo stati avvertiti all'ottato di mattina che c'era un buco alla porta, hanno forzato la serratura, hanno bucato il vetro, con il maglio di antipanico sono entrati, hanno fatto un po' di danni all'interno, hanno rubato cassa, tablet, quelle che hanno trovato, le cose più spicce da recuperare. L'importo non ancora lo stimiamo, comunque il danno c'è, ma più che il danno è la rottura del vetro, il disagio e comunque il ramarico e comunque la sicurezza non ce l'abbiamo. Non ci sentiamo sicuri soprattutto perché comunque la notte qua è un far west, non ci sentiamo sicuri perché comunque vediamo che di giorno pattuglie per una piccola manifestazione arrivano 100-200 cellerini, invece la notte gira una sola pattuglia, la torna in parte a Monticchio. Serve controllo, serve controllo notturno, serve che quest'ora il sindaco metta a disposizione dei cittadini, di chi lavora, dei commercianti qualcuno che gira la notte. Video sorveglianza? Anche video sorveglianza, sempre video sorveglianza, anche video sorveglianza. Furti non solo all'Aquila perché c'è stata una raffica di furti sempre con spaccata ai danni di diverse attività anche del centro di Pescara. I ladri dopo aver rotto le vetrine si sono introdotti all'interno di negozi ed hanno svuotato i registratori di cassa. Gli episodi si sono verificati nella notte, nello specifico in via Roma i malviventi per entrare in una pasticceria hanno scardinato la vetrata e poi si sono impossessati di 170 euro di fondo cassa. In via Trento invece hanno preso di mira un negozio di scarpe per bambini. Prima hanno sfondato la vetrina usando probabilmente uno scooter come Ariete e una volta dentro sono riusciti a rubare solo circa 10 euro. Ladri in azione anche in una pizzeria di via Cavour hanno sfondato la vetrina ma non hanno trovato soldi. I proprietari delle attività commerciali stanno controllando se siano stati rubati i prodotti conservati nei frigoriferi. In tutti e tre gli episodi i danni sono ingenti. Ad occuparsi delle indagini è la polizia. L'altra notte era stato colpito anche un noto bar di via Chieti. L'Abruzzo perde il 9% in innovazione. Il Movimento 5 Stelle sul segno o meno in contotendenza con i dati delle altre regioni punta il dito contro le giunte D'Alfonso e Chiodi. Vediamo. A sei anni dall'istituzione dei poli di innovazione e a due anni dall'insediamento del presidente D'Alfonso Regione Abruzzo segna un meno 9% in innovazione. Non lo diciamo noi, lo dicono i report di valutazione comparativa della Commissione europea e siamo in controtendenza rispetto al resto d'Italia. Pensiamo che persino in Regione Molise cresce di un più 17%. Noi crediamo che questa sia una responsabilità politica di una mancanza di programmazione, una mancanza di rapporti con le imprese, di una mancanza di rapporti tra imprese, regione e università, centri di ricerca. A questo si può ovviare con degli studi specifici che non sono stati commissionati in Regione Abruzzo che potrebbero essere fatti sia internamente da Regione Abruzzo o affidandoli a delle società di consulenza per valutare come sono stati effettivamente utilizzati i fondi, quali risultati hanno portato, che cosa si è sbagliato e che cosa si può invece ripetere. Questo per far sì che i fondi europei non diventino come diventano troppo spesso assistenzialismo europeo ma aiutino le imprese a crescere in maniera strutturale. Parliamo anche dell'utilizzo dei fondi 2007-2013, quindi è tutta la politica in generale che non ha programmato e non ha programmato nemmeno una verifica dei risultati. Sotto lo slogan Ribelliamoci, l'associazione vittime del salvabanche scende di nuovo in piazza a Montecitorio. L'associazione nata per difendere i risparmiatori che hanno perso i soldi investiti nelle quattro banche, Banche Truria, Banca Marche, Cari Ferrara e Carichieti, afferma che le banche italiane sembrano essere scivolate in un precipizio senza possibilità di fermarsi dove i responsabili e amministratori delle banche rimangono impuniti. Banca d'Italia e Consob restano a guardare e il governo che allo sbando si dimostra non all'altezza di gestire la situazione adottando misure casuali di azzeramento dei risparmi, ogni volta in una forma diversa, senza regole certe e senza una serie. Guida politica. Seduta lampo di approvazione del bilancio all'Aquila che si è conclusa con la mancanza del numero legale a causa dell'assenza in massa dei consiglieri di maggioranza. Ma il sindaco Cialente spiega senza decreto del governo che ci trasferisce 16 milioni di euro impossibile per noi approvare il bilancio. Polemiche dall'opposizione. Durante Adriano, Giorgio Ermanno, Gianni Sergio, Masciotto Giustino. Un appello nominale, quello di questa mattina in consiglio comunale all'Aquila, che è suonato come una mera formalità, visto che sui banchi della maggioranza, ad inizio della seduta di approvazione del bilancio comunale, c'era solo l'anziano consigliere Giuseppe Ludovici del gruppo misto e Antonio Di Nardantonio del Partito Democratico. Ed anche sul banco della Giunta c'erano solo poltrone vuote. Un'assenza di massa che ha fatto mancare il numero legale, però calcolata ed annunciata. La maggioranza non è andata al maro in montagna, è stata solo costretta a disertare l'aula, a prendere tempo, almeno fino a metà agosto, in attesa che il governo approvi il decreto, rivisto e corretto, che stanzia 16 milioni di euro di trasferimenti straordinari post-sismici, senza i quali il Comune non potrebbe chiudere il bilancio, se non aumentando di molto le tasse, e con tali draconiani alla spesa, misure che poi diventerebbero irreversibili. Un escamotage tattico che però non ha impedito alle opposizioni civiche di centrodestra, presenti in aula, di fare pesanti ironie e di accusare la maggioranza. La verità per loro è che il governo amico ha tagliato di parecchi milioni l'importo del trasferimento straordinario e ora la maggioranza è allo sbando. Si sta cercando di rimediare al guaio dei 16 milioni di euro che il governo non ci ha dato, quindi oggi ci sarebbe stato l'aumento della daria al 50%, ma non abbiamo avuto atti e quindi non si può fare la salvaguardia e quindi si aspetterà molto probabilmente la diffida del prefetto, come al solito un escamotage politico sulle spalle degli aquilani. Siamo a un punto di non ritorno perché per l'ennesima volta non si rispetteranno i tempi. presentata l'iniziativa Riciclo in Tour, che dal 5 al 14 agosto attraverserà 10 comuni rivieraschi con attività di informazione e animazione su raccolta e riciclo degli imballaggi in plastica. È una delle diverse attività che noi stiamo, come Regione Abruzzo, portando avanti insieme al Corepra, al Consorzio Nazionale, che è preposto proprio al recupero e riciclo di materiale plastico. A novembre scorso abbiamo dato i risultati di un'altra iniziativa che si chiamava Un Sacco in Comune, era un concorso a premi, vinse il Comune di Giulianova. Oggi abbiamo, oltre ad aver presentato questa attività che è rivolta prevalentemente all'utenza turistica, ecco perché sono stati interessati 10 centri balneari abruzzesi, la nord a sud, da Martinsicuro a Ortona, passando per Sivimarina, Pineto, Giulianova, Pescara, Montesilvano, Francavilla. È un'iniziativa di carattere informativo e divulgativo, ovvero si evidenzierà e si cercherà di sensibilizzare gli utenti sulla importanza di queste buone pratiche, rivolgendosi anche ai più piccoli con delle attività ludiche pomeridiane. Ma abbiamo anche presentato i risultati di questa attività che nel corso del 2015 ha portato l'Abruzzo ad essere eccellenza in campo nazionale perché registrava un più 15% a fronte di una media nazionale che si attesta sull'8%. Sabato pomeriggio a Capitignano, primo convegno della neonata associazione Stava che intende rilanciare in grande stile l'offerta turistica dell'Alta Valle del Laterno e del Lago di Capitignano. Campo Tosto. Promozione turistica mirata a 360 gradi, anzi anche con le più avanzate tecnologie della realtà virtuale, elevazione della qualità e degli standard dell'ospitalità e dei servizi, creazione di pacchetti turistici integrati e competitivi. Questo si propone l'associazione Stava, composta da professionisti del settore e cittadini che amano e vogliono far conoscere al mondo come merite il loro territorio, ovvero l'Alta Valle della Terno in provincia dell'Aquila, al confine con il Lazio, che si estende dall'incantato Lago di Campo Tosto alle Faggete e Pascoli di Pizzoli, passando per le valli e le montagne incontaminate di Monte Reale, Cagnano, Capitignano e Barete. Primo step sarà un convegno per la promozione della nuova imprenditoria, in programma sabato alle ore 18 a Capitignano, a cui prenderanno parte player di rilievo del settore turistico, tra cui solo per citarne alcuni Massimo Terzuoli, esperti in fondi comunitari, Giacomo Festa, imprenditore sardo a livello internazionale nel settore multimedia, web marketing e tecnologia 3D, Giovanna Prioli, imprenditrice emiliana che nella riviera romagnola opera nel mercato in costante crescita del turismo e del benessere. Al nostro microfono Dario Tudini, presidente dell'associazione Stava. Stiamo cercando di dare una mano a tutti i nostri giovani che hanno perso fiducia nella nostra splendida terra, ma maggiormente stiamo cercando di aiutarli a tirar fuori dal cassetto che fino ad oggi sono state sotterrate da una massa di burocrazia o da persone che non credono nel futuro della nostra splendida zona. Sarà il primo convegno, l'argomento principale è illustrare la nostra splendida zona, vedere cosa si può fare e cosa possono fare i nostri giovani, specialmente col turismo, ma il turismo ecologico, fatto di sport, turismo, passeggiate, mountain bike, di tutto quello che ci può dare la nostra zona e la vicinanza al parco. Il Comune di Castelli ha presentato un cartellone di agosto ricco di eventi, dalla 52esima mostra dell'artigianato ceramico, notti bianche, concerti, gusto e tanto altro. Anche quest'anno il cartellone degli eventi più ricco è quello di Castelli, si parte il 30 luglio per arrivare al 4 settembre, qual è il programma Sindaco? Si inizia il 30 con l'inaugurazione della 52esima mostra, edizione della mostra mercato dell'artigianato artistico castellano, il 31 ci sarà l'inaugurazione della mostra della collezione Giacomini che arricchirà notevolmente il patrimonio già ricco del Museo di Castelli, sono oltre 100 opere. Il 6 di agosto ci sarà la presentazione del romanzo storico del professor Serpentini sulla rivolta di Castelli capeggiata da Francesco Antonio Grue, quest'anno è il 300esimo anniversario. Il 10 di agosto ci sarà l'inaugurazione della mostra al liceo Francesco Antonio Grue, praticamente quest'anno potremo riproporre in tutto il suo splendore il terzo cielo che è stato finalmente riportato a Castelli e potrà essere visitato. L'evento sicuramente centrale di questo programma è il Festival della storia dell'arte, noi quest'anno riproponiamo dopo alcuni anni questo festival che si svilupperà dal 19 fino al 26 d'agosto. La serata principale è quella inaugurale dove ci sarà il critico d'arte e Vittorio Sgarbi. Il programma è molto vario quindi invito tutti a poterlo consultare sia sul sito dell'ente, sui profili che sono insomma quelli social, primavera Castelli, Castelli ed Arte perché insomma ogni giornata c'è qualcosa sicuramente che può essere interessante. In conclusione ringraziare gli enti che hanno in particolar modo il consorzio BIM che insomma ci sostiene in questa manifestazione e i consiglieri Marcello Melchior e Raffaello Di Simone. E domani alle 21 in Piazza Pepe a Civitella del Tronto si esibirà l'orchestra di fiati i musici lotariani. L'ensemble è nata nel 2004 a Notaresco e formato da una quarantina di elementi per lo più giovani musicisti diplomati presso i conservatori italiani diretta dai maestri Danilo Di Silvestro e Claudio Gamberoni. La formazione orchestrale si ispira al modello anglo-americano con un organico che riesce ad eseguire senza compromessi le opere più significative del repertorio per orchestra di fiati. L'esibizione dell'orchestra attraverso le musiche di grandi autori come Nino Rota, Ennio Morricone e John Williams può essere apprezzata sia da tecnici e fini intenditori che da coloro che cercano semplicemente un'emozione o la magia delle note. E a Mosciano Sant'Angelo invece appuntamento con Tesori di Sera, un viaggio alla scoperta delle bellezze del comune. Terramano Da Montone a Selva Alta, dal centro città al convento dei Sette Fratelli, i tesori del territorio si aprono ai visitatori per raccontare la loro storia. A Mosciano Sant'Angelo domenica 31 luglio il comune promuove Tesori di Sera dalle 19 alle 24 itinerari liberi alla scoperta di beni culturali, paesaggistici e sapori del territorio. Apriremo questi beni in tutto il territorio, quindi da Montone a Mosciano Centro, Selva Alta e poi convento. In ogni sito ci saranno volontari delle associazioni che con noi collaborano a questa iniziativa, accoglieranno i visitatori, daranno le informazioni di carattere storico artistico e ognuno potrà visitare durante questa fascia oraria di apertura liberamente con i suoi ritmi, in base ai suoi interessi, tutti i siti del territorio. E inoltre a Chiostro del convento Santissimi Sette Fratelli sarà possibile, grazie anche qui alla disponibilità di due ottimi produttori locali, loro metteranno a disposizione degli assaggi di prodotti locali e un vino di produzione locale per raccontare anche attraverso questi sapori quelle che sono le caratteristiche del territorio di Musciano. Avremo una navetta messa a disposizione proprio dalla DMC che farà tutto l'itinerario, quindi la prima corsa sarà da Montone e quindi poi andrà a Mosciano Centro, a Selva Alta, quindi Borgo Spoltino, il convento dei Santissimi Sette Fratelli per poi tornare a Montone. Nuovamente un'occasione per noi importante perché continuiamo a collaborare con Chi decide di fare sinergia per la conoscenza del proprio territorio, quindi laddove c'è l'intenzione di cooperare per portare i cittadini in primis e tutti coloro che hanno la sensibilità verso la riscoperta di quello che è il patrimonio culturale e ambientale, e Mociano ne ha davvero tantissimo, il FAI giovani non può fare altro che collaborare secondo ovviamente i principi del FAI. Suoni del lavoro è un concerto all'alba che si terrà lunedì 1 agosto alle ore 6 alla Torre del Cerrano, iniziativa organizzata dalla Regione Abruzzo e dall'istituzione sinfonica abruzzese in collaborazione con l'Università di Teramo e l'area marina protetta Torre del Cerrano. Iniziativa definita esempio di sintesi delle eccellenze culturali e di quelle paesaggistiche della Regione, come nasce questa iniziativa? È un'iniziativa che nasce direttamente in commissione, quando abbiamo discusso lo scorso anno dei finanziamenti, in quel caso dell'istituto sinfonico abruzzese, ma generalmente alla cultura, abbiamo chiesto che coloro i quali ricevono anche un contributo da parte statale della Regione Abruzzo rimettessero poi sul territorio anche qualche prestazione in maniera gratuita. Un evento in collaborazione tra gli altri con l'Università degli Studi di Teramo, come sposa questa iniziativa all'Università? La sposa con entusiasmo, è un'iniziativa straordinaria non solo perché viene offerto un concerto dall'orchestra sinfonica abruzzese all'alba in uno scenario incantevole, ma anche perché è un straordinario modo per valorizzare le risorse culturali di cui dispone la nostra Regione. In questo senso applauso al consigliere Monticelli che ha organizzato questa serie di concerti che ci consentirà, consentirà a tutti i partecipanti non solo di godere di un concerto assai bello, ma anche di riflettere sull'importanza che la formazione, in questo caso musicale, e soprattutto avere a disposizione una risorsa come l'orchestra sinfonica lo è per la nostra Regione, cosa significhi questo per tutto l'Abruzzo. In questa prossima occasione per l'istituzione sinfonica abruzzese cosa verrà proposto? Si tratterà del repertorio classico dell'orchestra in uno scenario meraviglioso. Siamo ben lieti come area marina protetta del Cerrano di continuare questa collaborazione con l'Università di Termo sotto questo aspetto molto particolare. L'Università e l'area marina collaborano già da anni, sin dall'istituzione, quest'anno anche grazie alla collaborazione della Regione Abruzzo e quindi dall'iniziativa del consigliere Monticelli avremo questo evento molto particolare e ci auguriamo che lo spettacolo sia strepitoso. E adesso una notizia che ci riguarda da vicino perché grande soddisfazione per la nostra testata giornalistica che ha vinto il premio Simpatia 2016 per il quarto anno consecutivo. Il nostro telegiornale, il TG6, è stato scelto dalla giuria come il miglior telegiornale d'Abruzzo. Alfredo Primante. Per il quarto anno consecutivo il TG6 si è confermato miglior telegiornale d'Abruzzo. A decretare il successo per lo spazio informativo di TV6 è stata la giuria del premio Simpatia 2016 ideato dalla famiglia Costa. Andrea Costantini e Francesca Romana Testi, rappresentanza della redazione giornalistica diretta da Manuela Petescia e dell'editore Quintino Pallante, hanno ritirato il premio nel corso della serata di gala tenutasi all'Arena del Mare sul lungomare di Montesilvano. Un riconoscimento, quello del premio Simpatia, che valorizza il lavoro di gruppo della testata giornalistica, che quotidianamente produce 30 minuti di informazione in tre edizioni alle 14, alle 19 e alle 23, a cui si aggiunge da lunedì al sabato la rassegna stampa mattino 6 a partire dalle ore 7. Oltre al TG6 i riconoscimenti sono andati tra gli altri a Grazia Scucimarra, autrice, attrice e regista teatrale, a Giorgio Repetto, ex direttore sportivo del Pescara Calcio, a Silvia Pagna, autrice, musicista e direttore d'orchestra e ad Elisa Riccitelli, cantautrice, ultima scoperta di Teddy Reno. Ed è stato proprio Teddy Reno, la stella della serata di premiazione, il grande cantante che ha ricevuto il premio alla carriera assieme al critico e storico d'arte internazionale e le ostrozieri ha dediziato il pubblico con una breve performance. La sussurrerà, la sussurrerà. Ed ora parliamo di sport, ovviamente partiamo con il Pescara che questo pomeriggio in amichevole a Palena nella terza uscita di stagione ha battuto a 5 a 0 il San Nicolò. Per i biancazzurri sono andati a segno del sole al 14esimo del primo tempo, Verre al 23esimo, sempre del primo tempo, ancora del sole al 39esimo della prima frazione, dunque doppietta per lui, doppietta anche per Nicastro al 17esimo e al 41esimo del secondo tempo. Pescara che domenica prossima affronterà un'altra formazione di Serie D, neopromossa il Pineto e poi il 2 agosto chiuderà il ritiro di Palena. Proprio sul ritiro di Palena abbiamo ascoltato il difensore esterno dei bianco-azzurri, Francesco Zampano. Francesco Zampano, piena preparazione per Ile e Pescara, ci sono questi amichevoli, si avvicina il campionato, si avvicina anche la sfida in famiglia con tuo fratello. Vi ritrovate in Serie A dopo essere stati protagonisti l'anno scorso in Serie B. È sempre bello, comunque sfidare il fratello gemello, quindi sarebbe di avere una bella emozione, come comunque in questi due anni che ci siamo scontrati. Noi siamo partiti due o tre settimane fa, ce la stiamo mettendo tutta, stiamo lavorando, siamo un gruppo giovane, dovrebbero arrivare altri pedini importanti, comunque noi stiamo lavorando bene, quelli nuovi stanno capendo comunque quello che il mister ci sta chiedendo. e niente, ce la mettano tutte. Un Pescara che, come ha detto più volte Massimo Oddo, vuole e deve mantenere la sua identità, che è quella di fare sempre gioco. No, quello sicuramente. La Serie A è un altro gioco rispetto alla Serie B, ne siamo tutti consapevoli, noi dobbiamo cercare di giocare con umiltà, sicuramente non saremo una squadra, te per quale te cuscinetto, per far punte agli avversari, ma cercheremo di dare tutto noi stessi. Andiamo con i totè pian piano e speriamo di arrivare al primo campionato comunque con carichi e motivati, soprattutto anche perché molti non hanno mai giocato in Serie A, quindi saremo tutti motivati e con un gran voglio di dimostrare anche in Serie A quello che abbiamo dimostrato in Serie B. L'ultima, Francesco, si parla tanto dell'arrivo di questo attaccante, si fanno tanti nomi, tra questi quello di Osvaldo, un giocatore importante che se dovesse arrivare rappresenterebbe davvero un tassello molto importante quelli pescati. Vabbè, sicuramente Osvaldo tutti se lo conoscono, come anche gli altri che sono stati accostati. Vabbè, io sinceramente non guardo chi dovrebbero prendere, adesso pensiamo a noi, abbiamo un tacco, ci abbiamo manato, comunque anche se giovane è un promettente, tra virgolette, ha caratteristiche simili alla Padula, comunque grintoso, ha voglia di dimostrare. E niente, vediamo in questi giorni come va, poi sicuramente prenderanno altri giocatori importanti. Altra amichevole questo pomeriggio per il Teramo sul campo dell'Avezzano, uscita per la formazione di Lamberto Zauli, che ha chiuso di fatto il suo ritiro ad Ovidi, indoli, vediamo come è andata la partita nel servizio di Andrea Costantini. Ho sentito qualche leggero apprezzamento dopo la partita di Pescara, ma non gli do assolutamente peso. Oggi siamo venuti qui a fare un allenamento importante contro una squadra che dà sempre il massimo, e infatti è stato difficile, però è stato un buon allenamento, abbiamo cercato di fare le nostre cose, e quindi questa è la cosa più importante. Non abbiamo subito infortuni e quindi è una crescita assoluta verso quello che sarà il 28 agosto, anche se noi tra tre giorni ci giochiamo già una partita ufficiale contro una delle migliori squadre della Liga Pro. Il fatto che le gambe siano imballate è un buon segnale da un certo punto di vista. Si è visto oggi Carraro che ha fatto vedere qualcosina. Carraro è un giocatore importante per noi, è quel giocatore che è un centrocampista con qualità tecnica e che ci deve dare quell'imprendibilità, sia per le sue giocate, sia per la sua posizione in campo, e poi come in tutte le partite che saranno, in tutti gli allenamenti, ci sono state delle buone cose ed altre assolutamente da correggere, ma va bene così, ho detto prima che è una tappa assolutamente importante per conoscerci, per migliorarci e quindi va bene. Pino Tortore, c'erano tante assenze, squadra al lavoro da tre giorni, però buone indicazioni in questo test? Sì, buone indicazioni, noi non ci aggrapperemo alle assenze mai perché fa parte del gioco, ma bene sì, sono contento, siamo moderatamente soddisfatti, è chiaro che dopo tre o quattro giorni, però già ho visto lo spirito della squadra, l'atteggiamento e anche una buona organizzazione difensiva, quindi ci fa ben sperare. E' un campionato che la Valiziano vuole vivere da protagonista, queste sono le parole del Presidente. Ma se mi dice lei chi dall'Africa alla Svezia non vuole vivere da protagonista e fa questo mestiere. D'avanguardia, comunque di buona classifica. Il Presidente dice altre cose, il Presidente dice che lui vuole vincere e non va bene mai nel calcio, però diciamo, a parte le battute, noi ci stiamo attrezzando e stiamo lavorando per dare grandi soddisfazioni, per dare grandi soddisfazioni. Poi vincere nel calcio è una parola terribile, ok? E gliela lasciamo pronunciare agli altri. Parliamo del Lanciano, perché anche giocatori del passato che hanno fatto grande la società frentana si mobilitano per salvare il calcio. L'ex capitano Mammarella e l'ex centravanti Pavoletti hanno postato dei video messaggi sui social network. Prosegue la corsa contro il tempo a Lanciano per trovare un imprenditore o un gruppo di imprenditori che possano garantire le risorse necessarie per l'iscrizione della squadra in Serie D. Il primo passo lo ha fatto il procuratore Donato di Campli, che ha costituito e affigliato una nuova società, la Pro Lanciano. Ancora poco più di una settimana di tempo a disposizione, tra contributi, tasse, pideiussioni e altra ancora, per ripartire dalla D servirebbe una somma sui 300 mila euro. Con 50 mila euro si ripartirebbe dall'eccellenza, altrimenti la prima categoria. Intanto si mobilitano alcuni di quei giocatori che negli anni scorsi hanno fatto grande il Lanciano. Da loro l'invito a partecipare all'azionariato popolare, la raccolta fondi presso il conto rossonero acceso ad inizio settimana. Un modo non solo per reperire risorse, ma anche per sensibilizzare forze imprenditoriali a ridare vita ad un progetto calcistico in Frentagna. Queste le parole sui social del bomber della promozione in B, Leonardo Pavoletti e dell'ex capitano Carlo Mammarella. Ciao, sono qui per invocare il vostro aiuto affinché il Lanciano Calcio possa rinascere e possa tornare ai vecchi campionati di Serie B, come è giusto che debba stare. Quindi mi raccomando, diamo tutti una mano per il Lanciano. Vi abbraccio. Un saluto a tutti i tifosi del Lanciano. So che è un momento difficile per la città, ma so che ci sono delle persone che si sono attivate per cercare di riportare il calcio al Lanciano, che è quello che merita. Io cercherò di contribuire e cercherò di far contribuire più persone possibili, perché in questo momento è di questo che si ha bisogno. Quindi vi chiedo di partecipare il più possibile, perché come sempre l'Unione ha fatto la forza e quindi anche in questo caso sono sicuro che Lanciano avrà la sua squadra e con il tempo cercherà di tornare dove merita. Un abbraccio a tutti i tifosi. Ed è tutto per questa terza e ultima edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro la più cordiale buonanotte. Grazie a tutti.